A conti fatti i licei continuano a raccogliere le preferenze di studenti e famiglie. Oltre la metà delle iscrizioni online per la scuola secondaria di secondo grado hanno visto prevalere lo scientifico, mentre da anni ormai il classico è in calo, superato dall'indirizzo scienze umane. A mantenere un trend di crescita sono gli istituti tecnici e i professionali. Nei dati forniti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito spicca il settore economico per i tecnici con il turismo, mentre tra i professionali enogastronomia e ospitalità al belghiera è di gran lunga in testa. Non vanno ancora bene le novità del 4 più 2, un percorso di eccellenza di indirizzo tecnologico e il liceo del Made in Italy. Il grande salto in avanti della filiera tecnico-professionale non c'è stato, probabilmente perché la sperimentazione del 4 più 2 è arrivata un po' troppo tardi sui tempi dell'iscrizione e comunque anche per quanto riguarda le altre proposte di tipo formativo, probabilmente anche in questo caso non ha avuto buon effetto la relativa tempistica. In particolare il liceo del Made in Italy ha avuto 375 iscrizioni, quello del 4 più 2 ne ha ottenute quasi 1.700. Secondo il Ministro Valditana, il 4 più 2 ha riscosso un interesse significativo nelle famiglie, ha parlato di un risultato importante, non scontato, è inoltre intervenuto sulle occupazioni scolastiche per le quali gli studenti, afferma che danneggiano la scuola, dovrebbero pagare i danni e anche essere bocciati.